Che problema esista non c'è alcun dubbio. Guardate queste immagini girate dalla nostra redazione il 9 giugno. Questo è Vicolo Volpato a Bassano che le piogge in pochissimo tempo hanno trasformato in un torrente. Lo stesso è accaduto una settimana fa e i residenti, già costretti per la terza volta a tirare fuori fango e acqua da garage scantinati, sperando di riuscire a salvare le auto, esasperate hanno chiamato alla redazione di Rete Veneta. La situazione in queste ore è ovviamente ringraziando il cielo tornata alla normalità. Qualcuno ha anche ammassato le foglie uscite da tombini e scoli ma lasciate sul marciapiede a seccare. I timori di nuove piogge torrenziali non fanno dormire sonni tranquilli a chi vive e lavora qui, che ben sa come questo vicolo in leggera discesa convogli l'acqua dal cimitero e dagli scalabrini. Qui, come in molte altre zone del comune di Bassano, serve un intervento al più presto. Il sindaco Pavane e la sua giunta devono capire come riuscire a risolvere il problema per dare garanzie ai cittadini. Un problema che la nostra redazione sottoporrà all'amministrazione, sperando che in attesa della soluzione il torrente di Vicolo Volpato non torni a formarsi e ingrossarsi. Grazie. 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 Grazie.